Noi ci siamo concentrati sui ragazzi e sui bambini come se invece noi adulti sapessimo tutto. No, noi invece sappiamo, siamo perfetti, noi siamo bravissimi in educazione e sentimentale. Però è interessante questa cosa perché l'abbiamo parlato, riferito solo ai ragazzi come se fosse un problema. Ma quando invece i femminicidi ci sono a tutte le età, il problema non è solo ovviamente del femminicidio. Ci sono richieste sociologiche sui femminicidi? Beh sì, ci sono donne a tutte le età, la media delle donne uccise è intorno ai 45 anni, sono quasi sempre partner, compagni, familiari, non c'è mai il mostro fuori per strada. Però ci sono donne che vengono uccise anche a 80 anni, cioè non ha età. Appartenenza di classe è una appartenenza assolutamente trasversale. Però io invece credo che ritrovare dei luoghi dove le persone possano sperimentare un modo di stare insieme agli altri, ma anche questo è uno di quei luoghi. Cioè mancano luoghi dove le persone abbiano delle regole dentro le quali stare, perché le regole in qualche modo proteggono. E ti consentono di raccontare, raccontarti, esprimerti. Dove c'è la regola, ma c'è anche la trasgressione della regola, che è l'espressione di sé, completa. Quindi penso che sia un po' su questo che si debba lavorare.